Namaskaram Sadhguru, ho letto in Mystic Musings che se faccio del Reiki a qualcuno potrei assumere i suoi schemi karmici. Come posso proteggermi da questo? Non facendolo. Perché? Perché queste sono tutte cose che sono venute da persone che hanno abbandonato i monasteri buddhisti. Se vedi delle persone qui che esplodono con tipi diversi di energie e quant'altro, è il gruppo più mite. Ci sono persone più violente che sono un'esplosione di energia. Se volessimo convertirli in guaritori, sarebbero dei guaritori molto efficaci, nessun dubbio al riguardo. Ma se qualcuno tenta una cosa del genere, per loro è finita. Li sistemerò in modo tale che non conosceranno mai più nulla di spirituale in tutta la loro vita. E sicuramente li butteremo anche fuori da questo posto, perché non vogliamo persone del genere. Non perché siamo contrari ad alleviare il dolore di un'altra persona. Ma che tu interferisca nel processo vitale di un'altra persona, senza conoscerne l'interessa, è irresponsabile. È come... Hai visto... Sai, oggigiorno puoi vedere dei video di interventi chirurgici importanti in corso. Hai visto un video come questo? Hai osservato tutto con molta attenzione. Quindi domani qualcuno ha un problema. Prendi un rasoio da barba e decidi di fargli un intervento chirurgico. Ti dico, alcune persone potrebbero sopravvivere a questo. Alcune persone sono sopravvissute a cose del genere, non è vero? Molte volte, nelle zone di guerra, in natura, quando sono successi degli incidenti, delle persone hanno eseguito degli interventi assolutamente rudimentali su qualcuno ed è sopravvissuto. Ma non significa che sia il modo di fare della chirurgia, non è vero? Non è il modo di fare della chirurgia, non è così? È solo che alcune persone potrebbero essere sopravvissute a tali interventi. In condizioni straordinarie è stato fatto. Quindi, qualsiasi tipo di ingerenza nelle energie di altre persone è molto infantile. Deriva da una certa immaturità e da un certo stato egoistico di voler giocare a fare Dio. Se deriva dalla compassione, qual è il tuo problema? Lascia che il karma di tutti venga a te, finché ne vengono sollevati, qual è il tuo problema? Non è quello, vuoi giocare a fare Dio indossando i guanti. Non funziona così. Dio non ha giocato a nessun gioco con te, non ha cospirato con te indossando i guanti. È entrato in te per giocare a questo gioco. È solo il prete ad averti detto che è seduto lassù e osserva ogni cosa. Ma guarda il modo in cui la vita sta accadendo. La fonte della creazione si è richiusa in te, non è vero? Sì? Non è così? A meno che tu non abbia quel tipo di coinvolgimento, non interferisci in queste cose. Quindi mettere qui.